E' la settimana più difficile della stagione questa? Diciamo che quest'anno ne abbiamo avuto parecchie settimane difficili, sicuramente è una settimana importante per noi. In primis, parlo io perché oggi sono qua, però parlo a nome della squadra, volevamo chiedere scusa alla gente, ai tifosi palermitani, a chi ci ha seguito da casa, a chi ci ha seguito a Verona per la prestazione di domenica. Purtroppo la partita è andata come è andata, il Palermo che conosciamo non è quello lì e quindi noi chiediamo scusa perché una squadra che si deve salvare non può permettersi di giocare in quel modo lì, anzi di non giocare e per questo noi chiediamo scusa. Da qua a domenica abbiamo cinque giorni dove poter provare il meglio la partita con la Lazio, è una partita difficile ma allo stesso tempo per noi è importante perché sappiamo benissimo, come ho detto tante volte, che basta una vittoria, basta una scintilla per poter ritornare a vedere il sereno. Dopo la tempesta c'è sempre il sereno, purtroppo questa tempesta sta durando un po' troppo e sta a noi far arrivare il sereno. Dopo la partita vi siete confrontati, qual era il sentimento dell'ospedale che prevalera, la rabbia, l'orezza, voglio dire scatto? Delusione, delusione perché purtroppo siamo partiti giovedì per andare a preparare al meglio una partita importantissima contro una squadra già salva e purtroppo sappiamo benissimo com'è andata, è vero che non bisogna cercare alibi né nulla, però ci sono stati anche alcuni episodi che ci sono andati a sfavore che magari in un momento importante o in un momento diverso sarebbero andati in un altro modo, però alla fine conta il risultato, il risultato dice che abbiamo perso 3-1 e quindi dobbiamo solamente, come detto prima, imboccarci le maniche e guardare avanti. Non è semplice, però sappiamo benissimo che quello che è sceso a Verona non è il Palermo che conosciamo. Rispetto all'anno della retrocessione, voi eravate quart'ultimi quella volta, prima di sette giornate della fine, adesso siete terz'ultimi a pari merito, l'altra volta eravate quart'ultimi a pari merito, differenziali di inverso. Ci sono delle analogie che vedi in negativo o trovi dei risvolti positivi? Allora, fino a domenica sera non avevo mai guardato il calendario nel nostro, nelle altre, queste cose qua, adesso dovevo fare una battuta per sdrammatizzare questo momento perché io penso sempre in maniera positiva. Di cosa uguale all'anno della retrocessione c'è che andiamo a giocare a Torino con la Juventus e si gioca domenica alle 3 come l'anno della retrocessione. La penultima di campionato giochiamo a Firenze come abbiamo giocato l'anno della retrocessione. Non inquadrate le parti basse, però credo che è arrivato il momento di cambiare la rotta, di invertire, di andarci a riprendere quello che tre anni fa ci è stato tolto. Ti ho detto basta poco, basta una vittoria, basta dare continuità di risultati, bastava fare un filotto di punti che sia uno che sia tre ma per cercare intanto di avere positività, di avere entusiasmo, di ricreare di nuovo un trend positivo. Oramai siamo nel frullatore e sta a noi riuscire ad uscirne fuori e c'è solamente un modo per farlo. Io dico sempre testa nel carro armato e avanti e buttare giù tutto quello che troviamo. Mancherà a Vasquez se trovate una Lazio un po' agguerrita probabilmente dopo la brutta batosta, il derby, il sonoro dell'allenatore. Ma loro sono salvi, vero? Quindi starà a noi cercare di metterli ancora di più in difficoltà. Non è che noi stiamo passando un bellissimo periodo, mi pare che sono dieci, unici partite che non vinciamo, quindi dieci. Tantissimo e quindi è anche giusto che arriva la vittoria, è anche giusto che dobbiamo dimostrare di essere giocatori che onorano al meglio questa maglia. Prima di essere giocatori bisogna essere uomini, ma soprattutto bisogna portare rispetto per i colori che indossiamo. L'assenza di Vasquez può avere un peso a livello mentale sulla squadra? Sai, il Mudo è il giocatore più forte che abbiamo. È chiaro che bisognerebbe clonarlo e portarcelo anche come facciamo le partitine con gli amici d'estate. Sappiamo benissimo che per noi sarà una grossa perdita, però se su tempo dobbiamo dimostrare che con Vasquez, senza Vasquez, con Tizio, Caio, il Palermo è squadra, il Palermo è una cosa sola e tutti quanti insieme dobbiamo vincere. Non ci sono tante parole, le parole purtroppo ne abbiamo già fatte troppe, ne avete, ne abbiamo, ne hanno scritte, ne avete scritte. Ce ne sono dette, ce ne siamo dette, basta, è il momento adesso di fare i punti e basta. Stefano, una curiosità più che dire, oggi pomeriggio è tornato anche a parlare Ballardini, mi ha detto Sorrentino è un grande giocatore del Palermo, un importante uomo spogliatoio. È una sorta di mano che prova a tenderti, tu la accogli o è una mano che respingi? L'accolgo assolutamente, è chiaro che il primo a essere dispiaciuto per quello che è accaduto sono io, è chiaro che io baso la mia vita sui rapporti umani e voi sapete, e voi oramai sono tre anni e mezzo che sono qua, mi conoscete un po', è quello che anche sto cercando di insegnare alle mie figlie. Tolto questo, un domani probabilmente avrò il modo di chiarirmi con il mister, di parlare, io e lui a quattro occhi, lontano da occhi indiscreti e da telecamere. Lui sa benissimo cosa è successo, io so benissimo cosa è successo, lui sa cosa mi ha detto e cosa ci siamo detti. In questo momento credo che la cosa più importante sia il Palermo, la cosa più importante è vincere domenica contro la Lazio. Lui ha fatto questo passo in avanti e io se capiterà di incontrarlo gli stringerò la mano, assolutamente, non c'è nessun problema. Si possono avere opinioni diverse nella vita, quindi va bene così, però la cosa più importante, come ti ho detto adesso, è il Palermo, la cosa più importante è che il Palermo domenica sera deve vincere e deve portare a casa tre punti. Quindi scusami, se come soluzione estrema dovesse prospettarsi un suo ritorno, tu non saresti contrario? Noi vinciamo domenica e poi dal resto ci penseremo. Zamparini ha parlato di un novellino in confusione, voi come l'avete visto il mister in questi giorni? Noi l'abbiamo visto bene il mister, poi non ho letto le dichiarazioni di nessuno, sono stati due giorni dove ho preferito staccare completamente e non so a cosa si riferisce il presidente, però il presidente parla tanto per stimolarci, per punzecchiarci e quindi naturalmente l'ha fatto anche con il mister. Adesso la cosa più importante, come ho detto prima, sarò ripetitivo, ma la cosa più importante è il Palermo, indipendentemente da chi va in campo, da chi non ci va, da chi è l'allenatore o da chi è il presidente. La cosa importante è riuscire a mantenere il Palermo in seria.